Regione Toscana, il Consiglio regionale. In aula, ampio dibattito tra maggioranza e opposizione sul tema dello statuto. È infatti stato modificato dal Consiglio regionale lo statuto di Regione Toscana e noi andiamo ad ascoltare direttamente dalla voce dei gruppi di maggioranza e opposizione quali sono le modifiche e le nuove norme che ha adottato il Consiglio regionale con un ampio dibattito anche all'interno della maggioranza ma noi andiamo subito ad ascoltare le interviste. Ho deciso di non partecipare al voto della riforma statutaria per due ragioni sostanzialmente. La prima è una ragione di metodo. Quella riforma statutaria era stata licenziata con un contenuto profondamente diverso durante la prima seduta della Giunta regionale presentata a questo Consiglio più volte portata da me in prima commissione e più volte fatta saltare da incomprensibili equilibri politici. Finché a distanza di tempo quella legge è stata riproposta in una versione completamente diversa e direttamente avvocata ai lavori dell'Aula. Già l'altra volta decisi di non partecipare al voto perché ritenevo tutto questo una offesa all'istituzione che rappresentiamo. Ancora oggi ribadisco questo. Lo faccio non soltanto per questo profilo ma anche per una valutazione di merito. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto così come voluta dal Presidente della Giunta regionale che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso in quel momento deve avere un senso anche oggi. E siccome oggi questa riforma dello Statuto, oltre alla creazione di un sottosegretario che era già nell'impianto originario, prevede un allargamento dell'ufficio di Presidenza, quei costi ci saranno e saranno importanti, collegati soprattutto alle strutture e al personale. E allora se all'epoca poteva valere quel ragionamento, quel ragionamento a maggior ragione deve valere anche adesso. Fermo restando che reputo assolutamente incongruo un ufficio di Presidenza fatto da sette membri quando il Consiglio regionale ha 40 consiglieri in Aula. Mi pare francamente sproporzionato rispetto alle esigenze della Presidenza dell'Aula. Le nuove norme sono quelle che erano già state approvate ad ottobre in prima lettura. Il Presidente Gianni potrà disporre, se vorrà, di un sottosegretario da scegliere tra i consiglieri regionali, quindi senza aumenti di nuove indennità perché questi non ci saranno. L'ufficio di Presidenza avrà due componenti in più, come è stato sottolineato dalla minoranza, come maggiore anche garanzia di presenza e del funzionamento equilibrato del Consiglio regionale. La posizione del gruppo è stata una posizione assolutamente coerente con quello che avevamo votato in prima lettura, tra l'altro approdando ad una soluzione che aveva tenuto conto di non aumentare i costi, almeno dal punto di vista dell'indennità, sull'eccitazione che era stata fatta anche dalle opposizioni e che può dare comunque la possibilità di un contributo in più nell'ambito della Giunta attraverso il sottosegretario e poi l'aspetto che ho già ricordato dell'ufficio di Presidenza. La cosa invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo due mesi e mezzo cambiando opinione, una minoranza con tre posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della Presidenza della Repubblica. Ma non è così che si sta nelle istituzioni, ciò che accade a Roma, ciò che fa parte del dibattito, del confronto politico, del spappolamento, come loro hanno detto, della coalizione centrodestra non può ripercuotersi sulle istituzioni regionali, in questo caso sulle istituzioni della Toscana. Noi abbiamo immaginato questa legislatura come una legislatura costituente, nel senso che in questa legislatura noi abbiamo preso, al di là dell'attività ordinaria sulla quale siamo impegnati, da un lato sulla crisi pandemica, che per fortuna piano piano si sta risolvendo, e sull'altro invece sulla crisi economica, che ancora ad oggi non accenna a mollare il freno, l'abbiamo immaginato come una legislatura che mettesse e riordinasse lo Statuto, il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, e abbiamo cominciato proprio sei mesi fa con la modifica dello Statuto, che oggi è arrivata in seconda lettura e alla sua conclusione. Come Forza Italia, rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta, avevamo sollevato alcune obiezioni, il non assessore, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di Presidenza, perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché, rispetto a come era stato presentato, e rispetto invece a come è arrivato, e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello Statuto, che consentirà un snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'ufficio di Presidenza, una maggiore rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Certo, questo non ci basta. In coerenza rispetto al voto di prima, lo abbiamo votato a favore anche oggi. Ora passiamo alla fase 2, chiamiamola così, che è quella di modifica del regolamento del Consiglio regionale che dobbiamo fare, perché comunque è un regolamento vecchio, obsoleto e molto probabilmente non più attinente alla realtà delle dinamiche politiche di oggi. Da oggi Forza Italia comincerà a lavorare anche su quel regolamento. La Viva è l'unico partito del Consiglio regionale che è rimasto coerente in questa battaglia politica. Noi non avevamo un interesse specifico, come magari avevano altre forze politiche, quelle di aumentare il numero delle poltrone a livello regionale, e noi volevamo che la regione toscana migliorasse nel proprio funzionamento di governo. Per questo è una battaglia che è durata in solitaria per oltre un anno, un anno e mezzo. Siamo stati coerenti, eravamo contrari un anno e mezzo fa, abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto e il contrario di tutto. Fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti spaccarsi, gran parte dei partiti cambiare la loro opinione, chi per un interesse di carattere personale, e chi per cercare di ottenere qualcosa in un ridisegno di un assetto di governo che non ci convince. Avevamo chiesto di fermarsi, avevamo chiesto di fare le cose tutti insieme. Alla fine questa riforma passa per un voto di margine, non è mai successo nella storia della regione toscana, con un così basso numero di votanti che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione, come modificare la Costituzione a livello nazionale. Di questo siamo dispiaciuti, ma nel contempo è coerente della nostra battaglia. Nel merito della questione dicevamo che il nono assessore non serviva, dicevamo che i sottosegretari se hanno un senso di esistere devono essere esterni e non interni, e soprattutto ponevamo una questione, quella della parità di genere, che secondo noi è dirimente da istituire in termini statutari per renderla vincolante alla politica. Troppe volte i partiti si riempiono di questo concetto, poi quando è arrivato il momento di votare il nostro emendamento siamo rimasti soli. Però questa è anche la soddisfazione di essere un partito che sarà sempre sentinella del riformismo di questa regione, una regione che deve essere coerente con la propria storia, ma anche con gli impegni presi con i cittadini toscani. È successo qualcosa che sinceramente non ci aspettavamo di vedere, tanto per fare chiarezza, perché ho letto di agenzie che parlano di centrodestra diviso, è vero i gruppi di centrodestra hanno votato in maniera differente, ma la notizia non è questa, la notizia è che la modifica dello statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose, che lo statuto non venisse modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula, e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze, per esempio l'allargamento dell'ufficio di presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in ufficio di presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle che fin dall'inizio aveva detto non se ne parla, perché anche le assunzioni, non l'aumento di costi della politica, perché è bene spiegarle le cose, ma l'assunzione di nuovi dipendenti a supporto dell'ufficio di presidenza, quindi assunzione di persone che verrebbero a lavorare, creazione di nuovi posti di lavoro, non se ne parla, perché comunque i costi non si aumentano. Stamattina arriviamo in Aula e scopriamo che Italia Viva, che fa parte della maggioranza, è contraria all'allargamento, al provvedimento, alla modifica, che un consigliere regionale del Partito Democratico, che non è un consigliere qualsiasi, ma è il Presidente della Commissione che ha fatto l'istruttoria, è contrario alla riforma dello Statuto, a quel punto scusateci, ma fratelli d'Italia, questa roba non la vota. E ecco perché abbiamo deciso di votare contrari anche noi. Se la maggioranza non riesce a trovarsi d'accordo all'interno della propria compagine, figuriamoci se possiamo andare noi in aiuto. Questo nuovo Statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'ufficio di Presidenza, che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo. E non sarebbe male, lo riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pare opportunità, perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. Tutto ciò che può portare a un miglioramento anche della gestione dei rapporti, a un miglioramento del lavoro del Consiglio regionale, è assolutamente utile, perché lo ricordo, Giunta e Consiglio regionale sono due organi separati e il Consiglio regionale si occupa della rappresentanza sui territori. È fondamentale oggi riuscire a portare i territori e l'attenzione sui territori qui a Firenze. Credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali per cercare di riportare le periferie al centro. Noi stamani abbiamo deciso di non votare, perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto un'interruzione proprio per questo, di un passaggio, di calmare alcuni animi di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. Poi il PD è tornato e ha voluto votare, allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po' di confusione, sembra che il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia Viva, stando a quanto vediamo dal voto, anche perché la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare, ed evidentemente il 5 Stelle che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta, oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il questore spette a una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo, magari chiederemo anche lumi sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va in maggioranza tra di loro. La mia è una posizione nettamente contraria. Noi siamo andati a stravolgere lo Statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che evidentemente porteranno ad un aumento dei costi, ad una infornata di dipendenti, di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatori debba essere animata da un profondo spirito di formatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Perché è chiaro che l'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza, una delle modifiche che noi contestiamo più fortemente, perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore, senza che per contro si pensi, ad esempio, ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale che invece spetta a ciascun consigliere. Al contrario, si privilegiano invece questi accordi che nulla portano in più, ma che anzi ai toscani portano esclusivamente dei costi maggiori. Io penso oggi a tutti quei cittadini che non hanno la fortuna né di essere dipendenti pubblici né di aspirare ad esserlo. Penso ai lavoratori Fimer, della Laica, dell'ortofrutticola di Marradi, della GKN, tante crisi aziendali. E oggi noi mettiamo in scena, in quest'Aula, uno spettacolo che io non esito a definire squalido ed irrispettoso nei confronti dei Toscani. Siamo giunti al termine di questo appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni.